Profitto per fare i complimenti al Benevento che finalmente dopo tantissimi anni è andato in Serie B e dopo tanti anni che ha provato a salire dove meritava veramente di andarci, non è andato. Quest'anno secondo me ha fatto un grandissimo campionato e quindi sono felicissimo per Benevento, per la società e soprattutto per i difusi che sono veramente eccezionali. Il mio pensiero va al mio fratello Carmelo Imbriani perché lui oltre ad essere stato calciatore al Benevento è stato anche allenatore, ci teneva tantissimo a portare il Benevento in alto e sono convinto che anche grazie a lui il Benevento è andato in Serie B. Complimenti anche a Uteri che è un grandissimo allenatore, è stato un mio ex compagno a Palermo e complimenti a tutti. Carmelo ce l'hai fatta, ti voglio bene, un bacio a tutti.